Ciao, sono Simone Brancozzi e ti disturbo in questo periodo di ferie, oggi lunedì 21 agosto, perché il 19 agosto Italia Oggi ha pubblicato un articolo che ci vede protagonisti perché il Tribunale di Torino ha fermato un'esecuzione da parte di Equitalia, oggi agenziera di escursione, di un nostro cliente a cui avevamo presentato un accordo di ristrutturazione dei debiti fiscali del 182 ter, la transazione fiscale e il Tribunale ha ritenuto che in pendenza del 182 ter si debbano stoppare tutte le esecuzioni, quindi i ruoli vengono bloccati. Questa notizia ha molto importanza perché nella normativa questo che non c'è scritto, ma noi abbiamo percorso un interlogico, cioè se noi stiamo trattando perché il 182 ter